Musica Aggressione al liceo Michelangelo di Firenze il consiglio regionale condanna in modo unanime il ricorso alla violenza ma si divide sul caso specifico approvata la mozione del PD emendata dai 5 Stelle bocciata quella di Fratelli d'Italia scuola niente più certificato dopo 5 giorni di assenza il consiglio regionale snellisce le pratiche per il rientro agevolando medici e famiglie approvato il bilancio di esercizio 2020 dell'autorità portuale regionale nonostante la polemica con l'amministrazione via Regina via libera anche agli indirizzi del piano annuale delle attività maggiore trasparenza e più garanzie sulla rotazione sono gli obiettivi dell'albo regionale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici istituito dal consiglio regionale linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali nel codice dei contratti pubblici più attenzione al livello retributivo dei lavoratori dipendenti approvata la nuova legge l'aggressione di alcuni militanti di azione studentesca ai danni di due studenti del liceo Michelangelo avvenuta sabato mattina a Firenze continua a infiammare il dibattito politico nazionale e mentre sono in corso le indagini della procura dai vertici della regione toscana arriva una dura condanna dell'episodio sono gravissimi che sono gravissimi sembra di ricreare quel clima che accanto a un governo di destra si accompagna naturalmente da un lato il volto più che presentabile e al di là delle opinioni totalmente diverse ma insomma delle figure di governo ma dietro ti rendi conto che sul piano territoriale agiscono nuclei in questo caso di studenti che fanno della violenza la loro ragione d'essere e questo deve essere assolutamente una strada da bloccare e l'individuazione dei responsabili perché possano in modo esemplare essere messi in condizione di non nuoscere deve essere il nostro imperativo morale io vedere quelle scene quei cazzotti quelle pedate quella cattiveria in quei ragazzi nei confronti di loro coetanei è qualcosa di incredibile il confronto sull'aggressione ai danni dei due liceali è approdato anche in consiglio regionale le forze politiche hanno condannato all'unanimità il ricorso alla violenza ma si sono divise sull'episodio specifico tanto da vanificare il tentativo del presidente Antonio Mazzeo di arrivare a una posizione unanime e così in aula sono arrivate due mozioni una presentata dal PD ed emendata dal Movimento 5 Stelle che è stata approvata a maggioranza senza i voti del centrodestra il partito democratico ha fermamente ribadito come sia necessario di volta in volta condannare l'episodio di cui si sta parlando e che questo sarebbe tanto più necessario quando gli autori della violenza sembrano essere militanti di forze politiche che al momento sono alla guida del paese un senso di responsabilità forse maggiore e questo aspicava il partito democratico avrebbe consentito condannando quell'episodio di mandare un messaggio corale da tutto il Consiglio regionale questo purtroppo non è stato possibile e quindi la maggioranza ha approvato il proprio atto di ferma condanna dichiarando sempre la disponibilità a condannare gli atti di violenza di qualunque matrice essi siano ma chiamando ciascun atto con il loro nome non parificando e non giustificando gli uni atti con gli altri in questo modo si rischierebbe di instaurare una spirale di giustificazioni reciproche che non conduce mai all'arresto di fronte alla gravità dei fatti condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola e faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche quindi dei simboli nazisti è stata addirittura picchiata in strada ecco arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni in primis quelle scolastiche devono fare la loro parte ma sicuramente le forze politiche e lo sappiamo non la loro responsabilità una questione molto dura forse la più dura del Consiglio regionale chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale ovviamente siamo convinti che questo avverrà nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuto al corpo docente ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee sicuramente non cazzotti pugni o violenza la seconda mozione presentata da Fratelli d'Italia è stata votata solo dai partiti di centrodestra ed è stata respinta Stamani mattina il presidente Mazzeo si era adoperato per riuscire ad avere un atto unanime di condanna della violenza e da qualsiasi parte arrivi che è la posizione che Fratelli d'Italia ha preso fin dal minuto dopo che sono circolate in rete le immagini di quanto è accaduto sabato la violenza si condanna sempre senza se senza mad da qualsiasi parte arrivi noi speravamo di trovare nel partito democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo in realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo laddove ogni giorno sui giornali si reggono testimonianze e controtestimonianze ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa a chiamare in causa il governo nazionale la polemica con Giorgia Meloni eccetera quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime dispiace c'era comunque nell'atto riconosco nell'atto del partito di maggioranza oltre alle varie strumentalizzazioni alle varie polemiche c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ce la siamo sentiti di votare contrari però non era l'atto che aveva chiesto il presidente mazzeo lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni dopo quel fatto dopo anche il corteo avvenuto ieri dobbiamo avere un senso di responsabilità un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione è un fatto grave dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengono più in Toscana e non solo in Toscana facendo sentire sicuri i nostri cittadini i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra che venga da sinistra però no a strumentalizzazioni aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere addio al certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza il provvedimento proposto dalla terza commissione sanità e politiche sociali ha modificato la legge regionale 40 2009 non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza quindi per un principio di semplificazione dalle leggi bassanine è un principio fondamentale del nostro ordinamento le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole c'è il parere della commissione quinta che è stato positivo il parere della comunità scientifica dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso un intervento analogo a quello già approvato in altre regioni italiane che ha ovviamente alcune limitazioni a tutela della salute pubblica oggi finalmente la regione toscana si adegua a una normativa di semplificazione i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza senza certificati medici e senza diciamo un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini che riguarda una fattispecie particolare ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale un'iniziativa che ha incassato anche il sostegno dell'opposizione credo che sia in linea con il cambio della medicina perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici specialmente dei medici di famiglia che sono oberati in questo momento di carenza di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della commissione è obsoleto infatti è stato superato da 11 regioni quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più quindi aiutiamo le famiglie alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività 22 voti a favore e 6 contrari il consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2020 dell'autorità portuale regionale esprimendo anche parere positivo sugli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attività approvato il bilancio dell'autorità portuale regionale ma devo dire che è stata l'occasione in consiglio per una discussione seria su quelle che sono le prospettive io ho cercato di evidenziare come in realtà è la regione toscana che sta facendo l'atto concreto a mio giudizio importante il sabbio adotto 5 milioni di euro per abbassare quello che è la platea sulla quale le navi poi entrano in porto e garantire un funzionamento di quella che è una realtà importante anche da un punto di vista del funzionamento dei cantieri cantieri che sono in questo momento sul piano della nautica in grande luce a livello nazionale e internazionale sono proprio i cantieri tirrenici da Livorno a Pisa col canale di Navicelli a Via Reggio a Marina di Carrara fra quelli che in qualche modo trainano la nautica a livello nazionale a mio giudizio l'autorità portuale indubbiamente ha una forma giuridica che possiamo anche arrivare a perfezionare e a migliorare ma sta funzionando e noi su Via Reggio ci dobbiamo puntare una votazione segnata anche dalle polemiche tra regione e amministrazione del comune di Via Reggio per quanto riguarda il bilancio dell'autorità regionale nell'autorità portuale regionale il gruppo della Lega ha votato contrario perché oggettivamente un bilancio che arriva a essere votato nel 2023 ma riguarda il 2020 è difficile poterlo sostenere perché è evidente che per dare sviluppo e dare risposte a chi opera nell'ambito del porto di Via Reggio alle grandi aziende ma anche a tutte le realtà che insistono nell'area portuale il rapporto tra regione toscana e comune di Via Reggio deve oggettivamente cambiare credo che siano tutti stufi di questo scontro fra la realtà del PD ufficiale e gli ex PD che governano a Via Reggio e ci sia invece necessità di dar luogo finalmente alla realizzazione del sabbiodotto dar luogo finalmente alla realizzazione dell'asse di penetrazione portare avanti e chiudere la partita sul piano regolatore portuale e per fare tutte queste cose oltre a quella di trovare degli spazi che possono anche coordinarsi sotto il profilo urbanistico fra regione e comune di Via Reggio anche in quelle aree che sono di pertinenza del comune per fare tutte queste cose oggettivamente ci vuole capacità di dialogo e non schermaglie e baruffe chiozzotte di cui siamo tutti stufi La regione toscana si è dotata di un albo regionale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia con il sì di tutte le forze politiche e l'astensione del Movimento 5 Stelle l'Aula ha approvato la proposta della Commissione Bilancio che punta a garantire trasparenza e correttezza nelle procedure e la rotazione dei diversi operatori economici potenzialmente 9.000 interessati al provvedimento Anche la regione toscana a livello di giunta si dota quindi di un elenco di operatori economici dal quale attingere per le procedure negoziate di affidamento di lavori servizi e forniture il tutto chiaramente in armonia con la disciplina nazionale del codice degli appalti un'opportunità importante che va nella direzione della semplificazione e che diventa beneficio non soltanto della giunta regionale e della regione in quanto tale ma anche degli enti derivati compresi quelli del servizio sanitario regionale e anche dello stesso consiglio regionale di tutte le amministrazioni aggiudicatrici presenti nel territorio della regione toscana sì a maggioranza alla proposta di legge ed iniziativa consigliare in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali nel codice dei contratti pubblici l'intervento approvato nonostante l'astensione di fratelli d'italia lega e movimento 5 stelle dispone che le esigenze sociali alla base dei criteri di aggiudicazione dei bandi siano stabilite attraverso linee guida deliberate dalla giunta tenendo conto anche della necessità di garantire un livello retributivo adeguato e attuale ai lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario è una piccola grande novità uno dei temi più attuali e più sentiti è quello del salario minimo garantito e sebbene nella norma non ci sia scritto salario minimo garantito la sostanza il cuore di questa norma di soli due articoli ma fondamentale si spinge oltre e va a dare delle linee guida alla giunta della regione toscana parlando di salario attuale e adeguatezza cosa vuol dire in sostanza vuol dire spingersi un pochino oltre nel codice degli appalti pubblici quindi della regione toscana ma anche di tutti gli enti che afferiscono alla stessa regione toscana per esempio Estar e quindi anche un indirizzo per i comuni quindi tutti gli enti pubblici è quello di andare a valutare la parte sociale che le aziende devono presentare quando si presentano a fare gli appalti quindi spingendosi verso quel concetto di salario minimo garantito che vuole rispettare il valore sociale del lavoratore è un primo passo sappiamo che la competenza non è squisitamente regionale ma vuol andare oltre provare a aprire e a forzare un po' la mano per andare verso quel diritto che dobbiamo garantire che è appunto il salario minimo e il rispetto della parte sociale che è già prevista peraltro in norma per questa edizione è tutto potete seguire le attività del consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.itoscana.it